Benvenuti nel tutorial del tool Indicatori di allerta. Vediamo ora come consultare gli indicatori consuntivi. Dopo aver caricato un bilancio dell'azienda in analisi, in questo caso il 2018, passiamo alla sezione Indicatori consuntivi. Questi indicatori, cosiddetti indicatori settoriali, sono previsti dal Consiglio nazionale e sono riportati nel tool in ordine gerarchico. Ricordiamo che questi indicatori sono previsti dalla riforma della crisi di impresa, che entrerà in vigore nel 2021, la quale prevede che venga effettuata trimestralmente un'analisi della salute dell'impresa. Tutti gli indicatori, in questo caso, a partire dal patrimonio netto che deve essere positivo, sono di colore verde perché hanno superato il test relativo ai valori soglia previsti per il settore di appartenenza dell'azienda. Non è stato adottato l'indicatore DSCR, perché per poterlo analizzare è necessario un budget di tesoreria. La previsione di entrata e uscita finanziaria non è presente in tutte le PMI e pertanto lo stesso Consiglio nazionale suggerisce di riferirsi direttamente agli altri indicatori previsti. A questo punto è necessario caricare il bilancio del 2019 per poter alimentare correttamente la base dati. Tornando nella sezione Bilanci, sarà necessario cliccare sul bottone Aggiungi bilancio in alto a destra e seguire nuovamente la procedura già esposta nel video relativo all'avvio del tool, compilando quindi i campi proposti e procedendo nuovamente all'inserimento del file. Anche in questo caso, l'inserimento sarà del bilancio in formato XBRL. Avendo ora a disposizione due esercizi storici in linea, potremo consultare, oltre agli indicatori consuntivi, anche gli altri indicatori, entrando nella sezione apposita presente nel menu. Tutti gli indicatori sono corredati da contenuti editoriali a supporto per la comprensione dei vari indici, disponibili cliccando sulla I di Informazioni, presente in alto a destra. Oltre ad una breve descrizione dell'indice, sono presenti i contenuti di approfondimento provenienti da fonti istituzionali come l'ODC e il Cid Milano o dai prodotti Memento. In questo caso, gli indici proposti sono tutti di colore verde, perché l'azienda è sana e ha superato il test. La barra a corredo degli indici, però, identifica il valore soglia e la freccia inserita indica la vicinanza o meno al valore soglia previsto. Il calcolo degli indici, relativi al cash flow operativo, è possibile in questo caso perché abbiamo accoppiato due bilanci, 2018 e 2019. È possibile all'interno degli indici considerare anche le componenti CAPEX e quindi considerare anche l'area di investimento o smobilizzo di cespiti. Il set relativo alle leve aziendali genera una prima valutazione della leva operativa e permette di valutare se la struttura aziendale ha una componente di costi fissi importanti. I valori soglia sono stati attinti da pubblicazioni della Fondazione Nazionale. La leva operativa mette in relazione il valore aggiunto con il valore relativo al personale dipendente. Il set relativo al break-even point evidenzia il margine di sicurezza, ovvero la differenza tra i ricavi effettivi e il ricavo di equilibrio. La sezione relativa agli indici statistici di previsioni insolvenze propone tre score diversi. Lo Z-score di Altman Lo Z-score di Olson E il Zmiasky-score Sono indici scientificamente avvalorati, per i quali è presente molta letteratura e sono volti a prevedere segnali previsionali di insolvenza.